E si può dire che è proprio a moda le merite il beat italiano. C'erano allora i Nomadi, l'Equipo 84, Francesco Guccini, oggi Romano Rossi, Rosanna Barbieri, la Ghirlandina Libera, il complesso, la Pavullo Band di Germania. E a tutti questi musicisti, la EMI ha dedicato un album doppio intitolato Grand Italia. Grand Italia, si chiama Grand Italia perché questo disco è nato da un'idea. Abbiamo fatto nascere tanti complessi, l'Equipo 84 è nata qui, i Nomadi sono nati qui, certe mie canzoni sono nati qui. Unirmi a questi ragazzi nuovi che hanno collaborato al disco, che ho conosciuto e che conosco, però è abbastanza difficile per me. Magari i Nomadi, per esempio, che hanno inciso sorpresi in questo disco, mi sono più vicini perché abbiamo lavorato assieme, abbiamo avuto dell'esperienza assieme. E la canzone raccontava una domenica, una domenica qualunque delle tante che noi passavamo a Modena, una domenica qualunque di qualunque città di provincia, insomma. La domenica era il giorno in cui dovevano accadere certe cose, era la fine, per esempio, della settimana di lavoro, della settimana di scuola. Sono già sette giorni che aspetti la festa e stare più a letto al mattino Alla sera hai bevuto Alla sera qui Alla sera una domenica qualunque di cui era prima, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.